Sì, io sarò, insomma, non si è attuale, entro i 20 minuti, però devo dire che ascoltare l'intervento del Sorso Accolcio, che è stato veramente un arricchimento, sia per la passione che ha profuso, sia, e questo è un bene, dal punto di vista emotivo noi purtroppo siamo spesso carenti, costretti dalle necessità quotidiane, sia dal punto di vista della emozione, è evidente che si tratta di una persona che a questo personaggio, cioè a Michele Pezza, ha detto fra diavolo, ha dedicato la vita intera, neanche si sente, ha dedicato la vita intera e questo è estremamente vero e costituisce altresì una lezione di vita, di vita intellettuale. Ringrazio gli organizzatori di questo convegno per avermi invitato, ringrazio tutte le personalità presenti, quindi le autorità locali, gli studiosi che, come dire, mi hanno voluto accogliere tra di loro, Fernando Riccardi, il professor Saccoccio, Marco Cilli e Claudio Saltarelli, che è il presidente dell'associazione identitaria Alta Teffa di Lavoro. Quindi grazie a tutti e grazie ovviamente a tutti i presenti, siete così numerosi, di solito a questi convegni a cui ci si misura, 7, 8, 10 persone, invece vedo che questo argomento e forse anche la continuità stessa dell'iniziativa che oramai è arrivata al quarto anno da quello che ho sentito, costituiscono garanzia di un lavoro serio e che quindi chiaramente coinvolge tutte le persone interessate. Ora, io parlerò del cardinale Ruffo, cioè di Fabrizio Ruffo, Ruffo di Bagnara, diciamo Bagnara perché poi comunque diventano Bagnara, ramo Bagnara. Le vicende di massima dell'impresa guidata da Ruffo sono state sinteticamente già esposte da Fernando Riccardi. È chiaro che quando si parla di Ruffo si pensa immediatamente all'impresa sanferista, cioè quella del 1799. Però ora vorrei presentare un Ruffo da un punto di vista più completo, cercando di vedere un pochino il personaggio, tratteggiarne alcuni caratteri, di far capire l'importanza della sua funzione e del suo, per alcuni versi, mito che si è creato, per altri versi della sua demonizzazione, perché a un certo punto è diventato il demonio della reazione in Italia. Intanto chi era il cardinale Ruffo? Intanto cardinale senza essere prete, come può essere ovviamente, perché il titolo cardinalizio è un titolo onorifico. Apparteneva ad una delle più nobili famiglie della Calabria, il Ruffo, ancora oggi la famiglia è molto bene inserita, viene formato a Roma. Si trova alunno del collegio Clementino, uno dei più esclusivi della capitale. Perché sto dicendo queste cose? Perché la lettura che intendo dare del cardinale Ruffo cerca di capire, o almeno propone, questo. Un personaggio che era da alcuni visto in termini di modernità, per altro verso diventa il campione, il campione della tradizione, il campione della insorgenza, eccetera, eccetera. E allora poiché il 1799 è un vero e proprio spartiacque perché è particolarmente significativo proprio il cardinale Ruffo? Perché fa capire come si possa difendere la reazione senza al tempo stesso essere ancorati ad un sistema economico, sociale, giuridico, eccetera, eccetera, che oramai andava mostrando, come dire, tutti i suoi limiti. Non a caso, dopo aver percorso tutti i suoi gradi di studio, eccetera, e aver mosso i primi passi nella gerarchia dello Stato Pontificio, quindi si è ormai trasferito a Roma, il Ruffo viene addirittura fatto tesoriere dello Stato Pontificio. La carica di tesoriere era particolarmente importante perché assommava in sé le competenze di tre o quattro ministeri, anche i ministeri di natura militare oltre quelli di natura finanziaria, ovviamente. Quindi era veramente un braccio destro del sovrano che era il Papa, quindi in quel fragente era il Papa Pio VI. E allora perché importante Ruffo? Perché già da subito comincia ad avviare una politica di modernizzazione dello Stato Pontificio. Uno si fa l'idea, Ruffo che difende le solite letture classiste, eccetera, eccetera, e Ruffo che difende gli interessi delle vecchie aristocrazie, Ruffo che difende eccetera, eccetera. In realtà Ruffo ha avuto non pochi problemi proprio per l'ammodernamento, per tentare l'ammodernamento dello Stato Pontificio. Ed era un ammodernamento ispirato da quali autori? Questo è il punto. Un erede di casa Ruffo, Giovanni Ruffo che è medico a Milano, almeno quando io l'ho conosciuto e l'ho invitata ad un convegno nella mia città di allora, in occasione del bicentenario della rivoluzione del 799, Giovanni Ruffo cita come punto di riferimento fondamentale il campione del liberismo europeo, cioè Adam Smith. Io piuttosto tenderei a riferirmi agli autori napoletani o innovadores del 1700. Quindi i suoi riferimenti forti sarebbero filangeri, genovesi, tutti autori che noi ritroviamo molto indirettamente per la verità nelle opere che egli ha compiuto. Parlo di opere che egli ha compiuto dal punto di vista, come direi, istituzionale, perché per quanto riguarda le opere da lui scritte non ha scritto tantissimo, ha scritto soltanto tre opere. La prima, la scritta che era ancora un ragazzino ed era di carattere squisitamente teologico, quindi riguardava il mistero della Trinità, in particolare dello Spirito Santo. Era una opera di quelle convenzionali, no? Che si facevano scrivere agli allievi più brillanti, ai più dotati nei collegi ecclesiastici. Le altre due opere invece riguardano la questione della grascia, cioè la questione dei viveri, di come organizzare e di come disciplinare dal punto di vista giuridico dazi, eccetera, soprattutto in merito alla questione dei viveri, soprattutto in merito alla questione alimentare. E allora ecco che Fabrizio Ruffo si stiera decisamente contro, diciamo, le vecchie corporazioni ancora esistenti che erano portatrici, non essendoci adeguati contrappesi, erano portatrici di interessi esclusivistici. Noi oggi diciamo in senso peggiorativo, usiamo in senso peggiorativo il termine corporazione, anche se in realtà in ultima analisi, come dire, richiama l'interessa del corpo, no? E quindi la totalità. Invece usiamo il termine per dire interessi di parte, proprio perché noi abbiamo avuto un, come dire, uno scadimento di queste formazioni nate legittimamente a difesa di questo o quel gruppo sociale, che però non era mai solo ed esclusivamente sociale, ed essendoci stato questo scadimento è chiaro che rallentavano tutta la vita economica. E allora ecco, famosi i suoi contrasti, contrasti del ruffo, dico, con i macellari, tanto per dire, a proposito dell'approvvigionamento delle carni, famose le sue decisioni di eliminare gli infiniti balzelli locali, no? E di organizzare invece il sistema delle doggane soltanto al confine dello Stato, al confine dello Stato pontificio, in modo da creare una semplificazione della vita economica, mediante un aumento della libertà del commercio, no? La polizia solare dell'intera. Fatta però entro uno Stato, entro uno Stato che nel suo caso era lo Stato pontificio. E' chiaro che per tutto questo, vodeva della piena fiducia del sovrano, quindi del papare, cioè di Pio VI, ma è chiaro che, come dire, scatena degli interessi opposti a quelli suoi. Si è detto poi di tutto di più sul cardinale che conduceva vita dispendiosa, che era libertino, che era anche, ecco, Casaburi parla di un laicismo. Non è così, insomma, a mio modesto parere. Era soltanto la volontà di un ammodernamento delle strutture dello Stato. Non a caso Ruffo riesce ad ottenere dei risultati inizialmente molto parziali, proprio per via delle opposizioni che gli ebbe affronteggiare. Ma la sua visione del rinnovamento dello Stato pontificio sarà poi ripresa. Esatto. Sarà poi ripresa. E quindi, signor Presidente,